Scegliere l'interfaccia audio o un recorder. Vediamo quali sono le caratteristiche tecniche da valutare. Ciao, in questo episodio vediamo alcune caratteristiche tecniche delle interfacce audio da valutare in caso di acquisto. Sono spesso caratteristiche che ritroviamo anche nei recorder di cui abbiamo spesso parlato negli altri video, negli altri episodi sul canale. Un'interfaccia audio è l'hardware che collega i microfoni e altri dispositivi audio, come strumenti musicali, quali una chitarra o un basso, al computer. L'interfaccia audio connessa al computer tramite un qualche tipo di connessione, ad esempio Thunderbolt, USB, Firewire, converte i segnali analogici in informazioni audio digitali che il computer è in grado di elaborare. Questa stessa interfaccia audio esegue anche lo stesso processo al contrario, ricevendo informazioni audio digitali dal computer e convertendole poi in un segnale analogico, che è possibile ascoltare tramite i monitor o le cuffie. Una scheda audio presente nei nostri computer è in fine conti un'interfaccia audio, ma la sua qualità del suono limitata e gli input e output ridotti al minimo la rendono tutt'altro che ideale per la registrazione e il monitoraggio di un audio di qualità. L'interfaccia audio ce ne sono per tutti i gusti, per ogni esigenza e per ogni tasca. Universal Audio, Focusrite, Presonus, Motu, IK Multimedia, Steinberg, Solid State, Em Audio, ecc. La scelta è dettata, così come per gli audio recorder, dalle diverse esigenze di ognuno di noi. Vediamo quali caratteristiche tecniche troviamo riportate generalmente nelle schede informative di questi prodotti. Bit Depth. La profondità di bit, appunto bit depth, indica la quantità di bit di informazioni presenti in ogni campione e ne descrive quindi la risoluzione. Ci dice quanti bit vengono utilizzati per descrivere ogni sample che il recording device registra. Quando si tratta di elaborare l'audio, la profondità di bit ha un enorme impatto sul suono. Un bit equivale a 6 decibel. Ciò significa che l'audio a 16 bit, che è lo standard CD, ha una gamma dinamica totale di 16 bit per 6 decibel per ogni bit, quindi per un totale di 96 decibel di dynamic range. Il problema è che il rumore di fondo digitale è piuttosto alto e la gamma dinamica rimanente è piuttosto ridotta. Il risultato è che se lavori a 16 bit, le sezioni più silenziose dell'audio tenderanno probabilmente ad essere un po' rumorose. Con un range di 144 decibel, ovvero l'audio a 24 bit, questo audio a 24 bit offre la possibilità di elaborare l'audio senza problemi in modo professionale. Connettività. Oltre al compito di conversione analogico-digitale e digitale-analogica, sull'interfaccia possiamo trovare ulteriori porte che possono allargare la possibilità di connettività. Le porte MIDI I.O. permettono di collegare la propria strumentazione e controller MIDI. Gli ingressi e le uscite digitali consentono di espandere i canali disponibili nell'interfaccia. E l'uscita Reamp che permette di modellare a posteriori le sonorità di quel che abbiamo registrato. Oggi è molto utilizzato nella registrazione per esempio delle chitarre, perché dà la possibilità di cercare in fase di mixaggio a posteriori un suono adatto alle esigenze del brano. Un amp-out dedicato permette di gestire il recording di amplificatori e pedali reali senza bisogno di accessori esterni come una DI box, uno switch di ground loop per evitare ronzii. E permette anche di sperimentare la ripresa con diversi microfoni. Dynamic range. Il dynamic range, l'intervallo di dinamica, è l'intervallo in decibel tra il valore minimo di ampiezza di un suono, il noise floor del device e quello massimo che può sostenere senza distorcere le onde. Con un'alta dynamic range abbiamo la possibilità di avere un headroom più alta mentre registriamo senza introdurre quindi rumore. Viene spesso indicata come DBA, cioè decibel pesati, e più alta è e meglio è. Tendenzialmente se è superiore a 100 DBA va bene. Una dynamic range inferiore ai 100 DBA non è molto buona. Soprattutto se ne accorge poi in post-produzione. Quindi è meglio stare su valori intorno ai 110 e alcuni recorder arrivano e possono anche forse superare i 120. EIN, equivalent input noise. Determina il rumore di un preamplificatore del recorder device. Se vogliamo registrare deboli segnali elettrici, come quelli provenienti da un microfono, dobbiamo prima amplificarli e questo viene fatto col preamplificatore di un recorder device. Ogni preamplificatore genera un rumore che gli è intrinseco quando amplifica un segnale e lo somma a quest'ultimo. Noi desideriamo naturalmente avere il minimo rumore possibile. Possiamo facilmente determinare il rumore di un preamp grazie al valore del EIN. Minore sarà, meno rumore genererà il recorder. Si esprimono con valori DBO e numeri negativi, per cui meno 130 sarà un valore minore di meno 120. Possiamo comparare due device. Se per esempio uno ha un EIN di meno 128 DBO e l'altro di meno 125 DBO, avremo, 128 meno 125, avremo una differenza tra i due di 3 decibel. Solitamente un recorder con un EIN di meno 130 viene considerato ultrasilenzioso. Valori di meno 125 sono buoni, decenti. Valori di meno 120 cominciano a far sentire il rumore. Ricordiamo però una cosa importante, che questo discorso vale quando registriamo con microfoni dinamici, perché hanno una bassa sensitivity e hanno bisogno di molta amplificazione. È il caso per esempio dello Shure SM7B, uno dei microfoni più usati nei podcast in questo momento. Insomma, se le interfacce non forniscono abbastanza gain, oppure spingendo al massimo introducono troppo rumore, si possono adottare però per esempio gli inline preamp, i vari cloud filter o FETED. Sottolineo però che questi non hanno senso di essere usati con microfoni a condensatore. Possono avere senso con microfoni dinamici. Per esempio, l'EIN della FETED è di circa meno 130 db, simile alla maggior parte delle interfacce di buona qualità. Se però usiamo per esempio la serie Zoom portabile Handy Recorder, quindi l'H5 o l'H6, questo ha degli preamplificatori che sono un po' rumorosi. L'H5 ha un EIN di meno 120 db, per cui 10 db più rumoroso della FETED. In questo caso utilizzare la FETED ha senso per ridurre il rumore. Dipende poi anche dalla sensitivity del microfono che utilizziamo. Il famoso Shure SM7B ha una sensitivity di meno 59 db ad un pascal. Lo Shure SM58, usatissimo nel canto, ha una sensitivity di meno 56 db. E quindi tra i due abbiamo già una differenza di 3 db. Ovviamente dipende anche dalla potenza della fonte sonora e dalla vicinanza di quest'ultima. Maggiore saranno e minore sarà lo sforzo del preamplificatore, del recorder, perché più alto sarà il segnale d'ingresso. Quindi se noi siamo più vicini, la fonte sonora, se noi che parliamo, cantiamo, siamo più vicini al microfono, ci sarà un input maggiore, una forza sonora che colpisce il nostro microfono maggiore, quindi il preamplificatore dovrà lavorare di meno. Quando registriamo con microfoni a condensatore valori di meno 120 db vanno bene perché siamo limitati dal rumore del microfono e il rumore del preamp diventa irrilevante. Frequency response. La risposta in frequenza è la misura dell'output di qualsiasi sistema su un segnale d'ingresso di frequenza variabile ma ampiezza costante. Un dispositivo audio con una buona risposta in frequenza è in grado di riprodurre correttamente tutti i toni bassi, medi e alti e nella giusta proporzione tra loro. E la risposta in frequenza ci dà indicazioni di quanti decibel la nostra apparecchiatura si allontana dalla perfezione in un range specifico di frequenze. È un dato che troviamo spesso nelle specifiche indicato come 20 Hz fino a 20 kHz più o meno un decibel. E è una definizione di questo genere però cosa ci dice? Ci indica che il registratore può registrare le frequenze che vanno da 20 Hz a 20 kHz e che è più o meno sensibile a certe frequenze nella misura di un decibel. Quindi alcune frequenze verranno registrate con un'ampiezza maggiore di un decibel e altre minore o meno un decibel rispetto alla media dell'amplitude. Non sappiamo però come risponde quindi alle varie frequenze perché abbiamo soltanto indicazioni di come possa fluttuare più o meno un decibel rispetto alla media per le diverse frequenze. Molto più utile e preciso è un frequency response graph cioè un grafico dove troveremo sull'asse delle X la frequenza inersa e sull'asse delle Y l'amplitude in decibel. Di solito è flat e si incurva agli estremi. I preamp dovrebbero avere una risposta il più possibile lineare, appunto flat per evitare una colorazione indesiderata e preservare perfettamente il carattere sonoro degli strumenti o della voce che andiamo a registrare. L'Axe IO dell'Akai Multimedia i preamp hanno una risposta in frequenza da 5 Hz a 32 kHz più o meno 0.5 dB a 96 kHz. L'Audient ID22 ha una risposta anche questa più o meno 0.5 dB da 10 Hz a FS fratto 2 dove FS sta per quante volte al secondo viene campionato l'audio. In altre parole rappresenta la frequenza di campionamento quindi FS fratto 2 significa semplicemente metà della frequenza di campionamento. Se la frequenza di campionamento dell'ID22 fosse stata impostata a 48 kHz la risposta in frequenza sarebbe stata di più o meno 0.5 dB da 10 Hz a 24 kHz. Gain e gain range indica l'ammontare di amplificazione che il preamplificatore di un recorder device può fornire. Lo troviamo espresso come gain da 0 a 60 dB che significa che se giriamo la manopola del gain del recorder tutta al minimo il recorder fornirà 0 dB di gain mentre se giriamo la manopola al massimo il recorder fornirà 60 dB di amplificazione. Il gain range viene espresso per esempio come 50 dB e non indica l'ammontare di amplificazione che viene fornita al minimo o al massimo ma piuttosto il range che possiamo controllare. Quindi se un recorder fornisce 10 dB al minimo e 60 dB al massimo il gain range sarà la differenza tra i due quindi 50 dB. Sono quindi due cose diverse da tenere presente. Input Output Audio Configuration Questa è una delle caratteristiche principali da considerare nei primi acquisti di un'interfaccia audio Input Output ovvero entrate e uscite sono il numero di canali audio disponibili nell'interfaccia audio Più ingressi a un'interfaccia più alto di solito sarà il prezzo Il numero e il tipo di ingressi e uscite di cui si ha bisogno dipende essenzialmente da ciò che si vuole essere in grado di registrare ora e anche in futuro Più input permetteranno di registrare più sorgenti contemporaneamente come chitarra basso voce Qui regna il buonsenso Inutile spendere molti soldi per una mega interfaccia con più di 20 ingressi e uscite se poi la si utilizza soltanto per una chitarra e una voce Se si intende collegare la chitarra o la tastiera direttamente alla propria interfaccia assicurarsi che l'interfaccia che si acquista abbia ingressi instrument level chiamati anche IZ Impedance Impedenza L'impedenza è la resistenza che un circuito oppone al passaggio di una corrente alternata come un segnale audio Un tempo si usava la tecnica dell'impedance matching in cui si faceva in modo di avere un microfono o un recorder con la stessa impedenza così che la massima potenza poteva essere trasferita Oggi si lavora con il maximum amount of voltage transfer per cui si adotta la tecnica dell'impedance bridging in cui l'impedenza del ricevitore deve essere 10 o più volte quella del device che manda il segnale audio Nel recorder device bisogna distinguere tra impedenza di input e di output quella di input viene definita individualmente per ogni differente input che un recorder in device possiede avendo a che fare con la bridging impedance l'impedenza degli input audio sarà relativamente elevata ricordiamo appunto che il device deve avere 10 o più volte l'impedenza del device che manda il segnale naturalmente tutti gli output su recorder device come line level output o headphone output avranno un'impedenza di uscita output impedance perché il segnale verrà trasmesso latency la latenza è in parole povere un ritardo quando registriamo ad esempio una traccia di uno strumento sulla nostra DAW Digital Audio Workstation il microfono trasforma le onde sonore in impulsi elettrici che vengono inviati al preamplificatore della scheda che poi trasforma tramite un convertitore analogico digitale le informazioni in una serie di numeri che il processore del computer è in grado di capire ed elaborare attraverso la DAW tutto questo introduce un ritardo che è definito latenza in ingresso poi naturalmente il segnale deve fare la strada inversa per arrivare alle cuffie o ai monitor e così avremo la latenza in uscita di output la somma della latenza di ingresso ed uscita prende il nome di round trip latency nella scelta della scheda più basso è il valore della latenza meglio è tendenzialmente quando questa è inferiore ai 10 millisecondi la latenza è difficilmente avvertibile diverse persone sono differentemente sensibili alla latenza la latenza dipende anche da vari fattori tra i quali prestazioni del computer peso del progetto al quale stiamo lavorando tipo di connessione del computer impostazioni delle dimensioni del buffer scelte molte schede danno la possibilità di fare il monitoraggio diretto e dalla DAW avere una manopola monitor dedicata semplifica il blend tra monitoring diretto e l'audio del computer per un monitoring a latenza prossima allo zero possiamo cioè sentire la nostra per esempio la nostra chitarra pulita a latenza zero oppure il suono processato dalla nostra DO o dal software di simulazione col monitoring diretto certo perdiamo la simulazione degli amp e degli effetti quindi dipende anche da cosa stiamo suonando alcune schede audio con processore DSP integrato permettono un monitoring digitale a latenza molto bassa con gli effetti applicati in real time dal processore della scheda stessa per esempio l'Apollo dell'Universal Audio maximum input output level indica il massimo segnale che un recorder device può sia registrare che riprodurre e viene espresso in DBU col maximum input level possiamo determinare se il recorder può registrare la fonte sonora che ci interessa questa può variare a seconda degli input di uno stesso recorder per esempio gli input XLR solitamente designati per essere degli ingressi microfonici hanno un valore più basso di maximum input level rispetto ad un ingresso TRS online che sono designati per ricevere un segnale audio ben più forte se vogliamo registrare una fonte sonora con un livello superiore al massimo input level del recorder questo andrà in saturazione clippando il segnale dovremo quindi attenuare il segnale analogamente ogni output del recorder avrà un livello massimo che è la forza massima con la quale può far uscire il segnale phantom power ovvero potenza fantasma spesso denominata anche come più 48 volt o P48 è usata per alimentare microfoni a condensatore con ingresso XLR con 48 volt attraverso il pin 3 del connettore bilanciato XLR esistono anche P12 e P24 ma oggi la maggior parte lavorano con 48p i microfoni dinamici non hanno bisogno di phantom power e bisognerebbe evitare di inviare l'alimentazione phantom a microfoni come quelli dinamici o a nastro che non la richiedono controllare che gli ingressi XLR del recorder forniscano effettivamente l'alimentazione phantom nel caso per esempio del modulo XLR aggiuntivo su recorder zoom quindi quello che si inserisce al posto delle capsule microfoniche per intenderci questo non fornisce alimentazione va bene quindi per esempio per un microfono dinamico plug-in power l'alimentazione plug-in viene utilizzata per alimentare i microfoni collegati tramite un jack da 3,5 mm l'alimentazione plug-in è di circa 3-5 volt e molti prodotti che dispongono di ingressi microfonici da 3,5 mm forniscono alimentazione plug-in senza specificarlo perché è necessario per alimentare il microfono anche i computer portati le OPC possono fornire in genere alimentazione plug-in ai loro ingressi microfonici da 3,5 ci sono alcuni microfoni da 3,5 che hanno una batteria interna e di solito non hanno bisogno dell'alimentazione plug-in ma la maggior parte dei microfoni da 3,5 mm richiede da 3 a 5 volt per funzionare correttamente se si vuole usare un microfono da 3,5 mm per entrare in un ingresso microfonico XLR si ha bisogno di un adattatore che non solo cambi i pin ma converta anche l'alimentazione Phantom 48 volt in alimentazione plug-in Rode produce per esempio un adattatore di questo tipo chiamato VXLR Plus e ora mi sembra che anche la DITI ne produca uno sample rate nell'elaborazione del segnale il campionamento è la riduzione di un segnale a tempo continuo in un segnale a tempo discreto come nel caso appunto di un'onda sonora un segnale continuo ogni campione è un'istantanea digitale dell'audio acquisito lo standard CD del CD audio a 44,1 kHz acquisisce quindi che vuol dire 44.100 immagini digitali dell'audio in ingresso ogni secondo negli audio recorder device il sample rate normalmente definisce la più alta frequenza che può registrare o riprodurre che sarà la metà del sample rate la conversione da digitale ad analogico richiede solo due campioni la parte superiore e quella inferiore di una forma d'onda per generare una frequenza quindi la frequenza di campionamento di 44,1 kHz è teoricamente in grado di riprodurre frequenze fino a 22,05 kHz cioè la metà l'orecchio umano il migliore orecchio umano quello di una giovane donna percepisce le frequenze da 20 Hz a 20 kHz quindi tecnicamente 44,1 kHz sono più che sufficienti per catturare e riprodurre ogni suono che poi si vuol sentire tuttavia frequenze di campionamento più elevate catturano informazioni preziose servono per registrare per esempio effetti sonori e per effettuare lavorazioni in post come rallentamenti perché così facendo riportiamo le frequenze nel campo dell'udibile ad esempio un campione audio a 192 kHz può rappresentare frequenze fino a 96 kHz mentre un campione audio a 44,1 può rappresentare solo frequenze fino a 22,05 kHz quando si riduce la frequenza di campionamento o il downsampling è fondamentale rimuovere le frequenze che non possono essere rappresentate alla velocità di campionamento inferiore lasciare le frequenze al di sopra di questo punto causa l'aliasing l'aliasing può essere udito quando le frequenze in una gamma non udibile vengono spostate in una gamma udibile causando distorsione e rumore THD e THD plus N il THD distorsione armonica totale in inglese total harmonic distortion misura l'introduzione di un rumore ad opera di un dispositivo su un segnale audio che transita al suo interno il dispositivo introducendo saturazione altera il segnale si genera rumore sotto forma di nuove frequenze originariamente non presenti distorsione armonica parliamo di distorsione armonica il THD viene misurato usando un'onda pura sinusoidale a 1 kHz e osservando in uscita l'onda di partenza e le armoniche generate possiamo trovarlo per esempio nella forma THD uguale a 0.001% a 1 kHz e meno 1 dBFS questo sta a significare che quando registriamo un'onda a 1 kHz ad un livello di meno 1 dBFS il recorder audio introduce una distorsione totale armonica di 0.001% nelle specifiche possiamo trovare spesso anche il THD plus N che sta ad indicare in percentuale la somma del THD e del rumore generato da recorder rispetto al segnale audio originale minore sono i valori di THD e THD plus N migliore sarà la resa perché minore rumore introdotto al giorno d'oggi hanno comunque un'importanza non esagerata perché i valori sono comunque bassi tipi di connessione l'interfaccia audio utilizza una connessione via cavo standard per trasmettere i segnali da e verso la DO quelle più comuni sono USB 2.0 ideali per le attività di base con numero di canali audio non eccessivi Firewire 400 800 erano tempo fa le più veloci connessioni disponibili ma ormai in gran parte sostituiti da USB 3.0 e Thunderbolt USB 3.0 è un'ottima velocità di trasferimento e larghezza di banda Thunderbolt è lo standard di connessione più veloce attualmente disponibile quindi interfacce audio possono avere uno o più tipi di connessione e a seconda di quello che dobbiamo fare della mole di lavoro della precisione velocità appunto richiesta sceglieremo un'interfaccia che abbia un tipo di connessione piuttosto che un'altra e naturalmente quelle con Thunderbolt hanno prezzi naturalmente superiori rispetto alle altre abbiamo visto le caratteristiche principali di un'interfaccia audio o un recorder e ognuna di esse può essere approfondita in base poi alle esigenze di ognuno ci sono anche gusti personali o plus come per esempio la presenza di peak meter di indicatori di livello che potrebbero tornarci utile per esempio sull'Axe IO o sulla Moto M2 per quelle di fascia insomma non esageratamente costose o per esempio la capacità di pilotare cuscie con alte impedenze e queste sono cose che possono farci propendere per un tipo di interfaccia piuttosto che per un'altra bene mi auguro di esservi stato d'aiuto lasciatemi un like se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale se già non l'avete fatto e ci vediamo alla prossima ciao